Consideriamo il diagramma di flusso in figura che rappresenta l'algoritmo per calcolare la media dei numeri positivi inseriti in input dall'utente. Se l'algoritmo è corretto, fornendo in input i numeri 2, meno 1, 8, ci aspettiamo di ricevere in output il risultato 5. Effettuiamo una simulazione manuale, quindi ho riportato su questo foglio di calcolo il blocco, una colonna per indicare i blocchi che sono numerati, poi tutte le variabili coinvolte, una colonna per indicare se la condizione che si sta esaminando è vera o falsa, e un'altra colonna per inserire l'output. Il blocco 1 contiene un'assegnazione. A media viene assegnato il valore 0, quindi qua scrivo 1 e sotto nella colonna media scrivo il valore corrente della variabile media che è 0. Quindi il valore corrente al momento è questo, è sempre quello che si trova nella cella più in basso relativamente alla colonna che contiene i valori della variabile. Poi nel blocco 2 viene assegnato alla variabile cont il valore 0, quindi nella colonna 2 scriviamo 0 in corrispondenza di cont. Il blocco 3 assegna a somma il valore 0 e quindi mettiamo 0 sotto somma. Osserviamo ora che c'è un ciclo. Si capisce che è un ciclo perché c'è una freccia che torna su, quindi vuol dire che queste istruzioni vengono ripetute un certo numero di volte. Che tipo di ciclo è? Un ciclo con condizioni in coda o post condizionale che poi vedremo verrà codificato con uno statement do while. All'interno di questo ciclo c'è un'istruzione di output seguita da una istruzione di input e un if. Attenzione non confondolo con un ciclo perché non c'è nessuna freccia che torna su. Entriamo quindi nel blocco 4, qui viene prodotto in output, inserisci numero. Quindi l'utente vede comparire sul proprio monitor, inserisci numero e inserisce il primo numero, abbiamo ipotizzato che sia 2. Quindi con il blocco 5, l'utente inserisce il primo numero di input 2 e questo viene acquisito all'interno della variabile num. In altri termini a num viene assegnato il valore immesso in input dall'utente. Quindi nel blocco 5 alla variabile num viene assegnato 2. Il blocco 6 contiene una condizione, andiamo a valutarla. Ci si chiede se num è maggiore di 0. Guardiamo il valore corrente di num, che è questo, 2. E' maggiore di 0? Sì. Allora andiamo a scrivere qui true. Dopodiché procediamo andando ad eseguire le istruzioni che si trovano sul ramo true, sul ramo vero. Nel blocco 7 la variabile cont viene incrementata di 1. Quindi guardiamo il valore corrente di cont è 0, aggiungiamo 1, per cui cont diventa 1. Nel blocco 8 assegniamo a somma, somma più num. Num vale 0, num vale 2, somma più num è uguale a 2. Si assegna il risultato alla variabile somma. Quindi nel blocco 8, somma diventa uguale a 2. Nel blocco 9 valutiamo la condizione num diverso da 0. Num vale 2 ed è diverso da 0. La condizione è vera e pertanto si segue il ramo vero e si torna al blocco 4. Nel blocco 4 di nuovo viene proposto in output all'utente il messaggio inserisci numero. L'utente a questo punto inserisce un secondo numero, quindi al blocco 5, l'utente inserisce meno 1. Al blocco 5 alla variabile num viene assegnato meno 1, quindi siamo qui, meno 1. Andiamo a testare la condizione al blocco 6. Num maggiore di 0. Num non è maggiore di 0, quindi la condizione è falsa. Seguiamo quindi il ramo falso, ma qui non c'è niente da fare, quindi si va direttamente al blocco 9. Nel blocco 9 testiamo nuovamente la condizione num è diverso da 0. Andiamo a vedere l'ultimo valore di num è meno 1. E' diverso da 0, quindi la condizione in questo caso è true. e si torna su, al blocco 4. Di nuovo a chiedere all'utente di inserire un numero. A questo punto l'utente inserisce 8. Quindi blocco 5 a num viene assegnato l'input inserito dall'utente, cioè 8. Nel blocco 6 testiamo la condizione num maggiore di 0. Num è maggiore di 0. E quindi la condizione è true. E andiamo quindi, seguendo questo ramo vero, a eseguire il blocco 7. Il quale incrementa il contatore di 1. Cont, quindi, valeva 1 in precedenza, con questo blocco diventa 2. Poi eseguiamo il blocco 8. Di nuovo andiamo a prendere somma e aggiungiamo num. Allora, somma vale 2, num vale 8, 8 più 2, 10. Questo valore viene assegnato alla variabile somma. Quindi somma, qui, assume il valore 10. Testiamo la condizione al blocco 9. Num è diverso da 0. Andiamo a vedere. Num vale 8, è diverso da 0. Quindi si torna sopra, al blocco 4. Una questione. Questo algoritmo dovrà terminare a un certo punto. E non l'ho detto in precedenza, però termina quando l'utente inserisce come numero il valore 0. Quindi aggiungo qui, tra l'input, tra i valori di input, anche lo 0 che adesso l'utente inserirà per indicare chi vuole terminare l'esecuzione. Quindi nel blocco 4, di nuovo, viene chiesto all'utente di inserire un numero. Nel blocco 5, l'utente inserisce lo 0, quindi nel blocco 5 a num viene assegnato il valore 0. Poi si va al blocco 6, nel quale ci si chiede se num è maggiore di 0. Questa volta num non è maggiore di 0. Quindi andiamo a scrivere che la condizione è falsa. Per cui si segue questo ramo, non si fa nulla, e si salta subito al blocco 9. Nel blocco 9 ci si domanda se num è diverso da 0. E vediamo che num invece non è diverso da 0. Quindi anche il blocco 9, valutando l'espressione che c'è all'interno del blocco 9, l'esito è false. Quindi usciamo da questo ciclo e passiamo al blocco 10. Nel blocco 10 abbiamo di nuovo una condizione, cont. È diverso da 0? Sì, perché cont vale 2. Quindi il risultato è true, vero. Per cui andiamo a seguire il ramo vero e passiamo al blocco 11. Nel blocco 11 c'è un'assegnazione. di somma fratto cont a media. Quindi si fa la divisione tra somma e cont. Somma vale 10, cont vale 2, 10 diviso 2 è 5. Pertanto a media viene assegnato il valore 5. Infine, blocco 12. Il valore della variabile media viene prodotto in output e possiamo verificare che l'output è proprio quello che noi ci aspettavamo. Potete utilizzare uno schema come questo per andare a fare ulteriori simulazioni. Potrebbe essere interessante verificare che cosa succede se l'utente inserisce subito e solo lo 0, oppure se inserisce tutti i numeri negativi. Ora che abbiamo accertato che il nostro algoritmo è corretto, passiamo alla codifica Java. Dunque, intanto creiamo un progetto, oppure se abbiamo già un progetto al suo interno, possiamo creare un package, media positivi, bene. E passiamo quindi alla creazione all'interno del package della classe, quindi tasto destro del mouse su media positivi, new class, chiamerò questo programma, proprio media positivi, selezioniamo anche questa casellina, così viene creata in automatico l'intestazione del metodo mail, finish ed ecco qua la nostra classe. Per prima cosa dichiaro le variabili, non è obbligatorio farlo subito, l'importante è farlo prima dell'utilizzo della variabile stessa, lo metterò all'inizio così è forse più semplice da capire per voi. Domanda che mi pongo, di che tipo sono le variabili? Allora, ipotizzo che siano tutte intere, tranne la media, che sarà double. Quindi inizio a dichiarare la variabile media, double, media. L'inizializzazione della variabile media potrei farla già in fase di dichiarazione, ma la faccio dopo, così rispetto alla numerazione dei blocchi. Poi tutte le altre variabili, che sono cont, somma, num, e poi basta, quindi punte virgole. Vado ora a codificare il blocco 1, una semplice assegnazione, a media, assegna 0. Il blocco 2, un'altra assegnazione, a cont, assegna 0. E il blocco 3, a somma, assegna 0. Dovete fare attenzione, perché questo è un ciclo, quindi non si comincia col blocco 4, ma si va a scrivere do, poi si apre una parentesi graffa, e se date subito invio, la parentesi graffa si chiude, così non avete poi il problema di dimenticarla. All'interno del ciclo, troviamo il blocco 4. Un output, userò le finestre di dialogo. Quindi, il blocco 4 e il blocco 5, con le finestre di dialogo, vengono codificati con un'unica riga di istruzione. Blocco 5. Quindi, utilizzo la classe geoption pane, assegno la variabile num, num è un intero, quindi devo, siccome ciò che viene inserito da tastiera è sempre una stringa, devo fare una conversione in intero, utilizzando la classe integer. Integer.parseInt, Adesso, tra le parentesi tonde, andrò a inserire il metodo showInputDialog della classe geoption pane, geoption pane, punto, showInputDialog, e tra le parentesi tonde, scrivo questa frase, inserisci numero. Magari, tra virgolette, e posso anche aggiungere, vado a capo così si vede meglio, inserisci numero, e posso aggiungere, zero per terminare, altrimenti l'utente non sa, come può uscire da questo ciclo. Il blocco, sei, è un if, quindi, if, aperta tonda, dentro le parentesi tonde scrivo la condizione, num, maggiore di zero, poi, apro una parentesi graffa, do invio così si chiude, e all'interno andrò a scrivere i blocchi 7 e 8. Le parentesi graffe sono necessarie e indispensabili, quando le istruzioni presenti sul ramo che sto codificando, dell'if, sono più di una. se c'è solo un'istruzione, se c'è solo un'istruzione, le parentesi graffe si possono anche omettere, ma non è sbagliato comunque lasciarle. codifichiamo il blocco 7, è un incremento del contatore, possiamo proprio scriverlo così, cont più più, punte virgola, e il blocco 8, che assegna a somma, somma più nome, quindi si scrive proprio quello che c'è dentro il rettangolo, più nome, punte virgola. Qui si chiude l'if, posso anche segnalarlo scrivendo and if, ma non è obbligatorio. a questo punto, quindi sono arrivata alla fine di questo ciclo. Questa condizione, che si trova al fondo del ciclo postcondizionale, va riportata qui, vedete, intanto ho anche segnalato che c'è un errore, c'è un errore perché manca un pezzo. Quindi, dove c'è questa parentesi graffa che chiude questa aperta in corrispondenza del do, vado a scrivere while e tra parentesi tonde la condizione presente nel blocco 9. num diverso da 0. num diverso da 0. E poi, devo anche mettere un punto di virgola. Questo è il blocco 9. Siamo usciti dal ciclo, quindi, passiamo a codificare il blocco 10. E un if all'interno scrivo cont, tra le parentesi tonde, cont diverso da 0. E, come vi ho detto prima, siccome c'è solo un'istruzione nel ramo vero, posso anche non mettere le parentesi. e scrivere subito media uguale somma fratto cont, punto e virgola. Poi, mi posiziono nella riga sotto e posso andare a scrivere, a codificare il blocco 12. qua, mi sono dimenticata di scrivere che è il blocco 11. Codifico il blocco 12. si tratta di un'istruzione di output. utilizzo sempre le finestre di dialogo, quindi, il metodo showMessageDialog per cui andrò a scrivere joptionPane punto showMessageDialog il primo parametro è nulla e il secondo parametro è ciò che voglio che appaia in output scriverò qualcosa del tipo media uguale poi chiudo le virgolette e concateno con questa stringa il valore della variabile media salvo ed eseguo compare la finestra di dialogo mi chiede di inserire un numero utilizzo gli stessi valori usati per la simulazione quindi inserisco 2 e poi invio poi inserisco meno 1 invio e poi 8 e infine 0 vedete che il risultato è 5 vediamo cosa succede ora se in input inserisco 3, 2 e 0 il risultato dovrebbe essere la media calcolata con questi valori di input quindi 3 più 2 è uguale a 5 diviso 2 dovrebbe restituire 2,5 proviamo quindi inserisco 3 poi inserisco 2 poi 0 per terminare ma la media non è 2,5 è 2 questo accade perché qua nel blocco 11 la divisione viene fatta tra due variabili che sono di tipo intero tutte le volte tutte le volte che noi utilizziamo questo operatore di divisione con due variabili intere il risultato è un numero intero quindi per ottenere il numero intero cosa succede? viene tolta via la parte tutto ciò che c'è dopo la virgola viene poi rappresentato il risultato come 2,0 perché la media è di tipo double quindi in questo caso viene eseguita la divisione intera perché i due operandi sono interi in alcuni linguaggi di programmazione diversi da java esiste proprio un operatore specifico per fare la divisione intera e un operatore invece per fare la divisione esatta quella che ci restituisce il quoziente esatto la domanda è come faccio ad avere il quoziente esatto dalla questa divisione? bisogna trasformare convertire in double almeno uno di questi due operandi o somma o cont si utilizza a tal proposito si fa il cast il cast si fa mettendo davanti a una di queste due variabili tra parentesi tonde il tipo nel quale vogliamo convertire la variabile ecco in questo modo stiamo dicendo che somma deve essere considerato come valore double quindi la divisione sarà una divisione che restituerà un valore double proviamo salvo eseguo quindi inserisco 3 poi inserisco 2 e poi 0 per terminare e potete vedere che adesso il risultato è il quoziente esatto 2.5 attenzione non commettere l'errore di applicare il cast a tutta questa espressione verifichiamo verifichiamo 3 2 0 vedete che otteniamo di nuovo il quoziente calcolato come divisione intera perché in questo caso prima viene eseguita la divisione che è una divisione intera poi il risultato che è 2 viene convertito in double quindi diventa 2.0 e poi è assegnato a media quindi questo non è da farsi bisogna fare il cast solo su 1 o se volete su entrambi gli operanti anche se non è necessario separatamente quindi eventualmente scrivendo in questo modo mettendo questo double davanti a ciascun operando ma questo non è necessario basta convertirne 1